Musica Nel giorno di Pentecoste la diocesi ha vissuto con gioia l'ordinazione presbiterale di Don Paolo Nicora. La prima missione è vivere una vita donata cercando l'amicizia con Gesù. Crisi di vocazioni, trasparenza nella gestione dei soldi, accorpamento delle diocesi sono i tre timori espressi dal Papa aprendo la 71esima assemblea della CEI. Francesca ha proposto una condivisione di sacerdoti tra le diocesi italiane. Lo Spirito Santo ci porta verso Dio e verso il mondo, lo ha detto il Papa durante la messa di Pentecoste alla recita del regina Celia annunciato il concistoro. Il prossimo, 29 di giugno. Al via a giugno i lavori per la passarella pedonale del torrente Boate-Rapallo. Sarà pronta in autunno per un costo di 300 mila euro. Maggiori controlli nei cantieri e più consapevolezza dei rischi da parte dei lavoratori. Lo chiede la CISL del Tiguglio alla luce del numero sempre elevato di incidenti sui luoghi di lavoro. Il sistema degli invasi di Giacopiane al centro della trasmissione direttamente su. Questa sera reportage nel territorio di Borzunasca alla scoperta della diga e della produzione di energia. Uno scambio culturale tra studenti italiani e moldavi. È il progetto in fase di studio che ha portato in Fontanabuona l'ambasciatrice in Italia della Repubblica di Moldova, coinvolto il Marco Polo di Calvari. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Nella solennità di Pentecoste la diocesi di Chiaveri ha festeggiato l'ordinazione presbiterale di Don Paolo Nicora. Don Paolo in questi mesi ha svolto servizio diaconale nella zona apostorale di San Salvatore di Cogorno. Chiediamo il dono dello spirito per lui, ha detto il vescovo Monsignor Tanasini nell'Omelia, perché sia al servizio della santità. Della Chiesa, il servizio. Lo vediamo insieme. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ti preghiamo ascoltarci. Nel cuore della celebrazione del giorno di Pentecoste, il rito di ordinazione presbiterale di Don Paolo Nicora, 44enne e geologo originario di San Salvatore di Cogorno, Don Paolo ha portato così a compimento un cammino iniziato cinque anni fa in risposta ad una domanda. Ad un certo punto della mia vita ho iniziato a farmi delle domande e niente. Prima cosa che ho avuto il coraggio di chiedere, di parlare di queste cose a qualcuno. E poi da lì è nato tutto un percorso, anche umano direi, perché comunque prima di tutto. Che poi comunque mi ha portato alla scelta di entrare in seminario. Nel percorso di formazione al sacerdozio, tante le persone che hanno sostenuto e animato la vocazione di Don Paolo. Tra le altre, in particolare, il giovane ricorda Don Marcello Botto, suo parroco negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, che lo ha iniziato alla vita cristiana. Il vescovo, prima di imporre le mani al neosacerdote, ha invocato il dono dello spirito per la chiesa e in particolare per Don Paolo, perché possa essere consacrato e santificato. Abbiamo bisogno, ha detto Monsignor Tanasini, che questa opera di santificazione non sia semplicemente istituzionale. Certo, Paolo, come presbitero, avrà nella chiesa degli incarichi, dei ruoli, avrà delle potestà, ma tutto questo potrà fare soltanto se vivrà la testimonianza interiore dello spirito. Al termine della celebrazione, l'Assemblea ha accolto con un grande applauso il neopresbitero, anticipando una festa, proseguita poi con i compagni di cammino, i sacerdoti diocesani e tanti amici presenti nei locali del seminario. Una grande serenità nell'affrontare quello che poi sarà il Ministero. Penso che la prima cosa per me e per vivere una vita donata, che possa essere bella per gli altri, sia cercare l'amicizia con Gesù, sapere di essere amati, come dire, al di là delle cose che possono succedere. Io penso che tutto il resto sia un regalo che ti viene dato. Il Papa ha aperto oggi la 71esima Assemblea della CEI, la conferenza episcopale italiana, in corso in Vaticano sino al prossimo 24 di maggio sul tema quale presenza ecclesiastica nell'attuale contesto comunicativo. Sono tre le preoccupazioni che il Pontefice ha voluto condividere con i presenti. Vediamo. Crisi delle vocazioni, povertà evangelica e trasparenza nella gestione economica, riduzione e accorpamento delle diocesi. Sono queste le tre preoccupazioni espresse dal Papa ai vescovi italiani incontrati all'inizio dell'Assemblea Generale. Non per bastonarvi, ha detto, ma per dire le cose che mi preoccupano e poi darvi la parola anche per le critiche. Non è peccato criticare il Papa. L'emoragia delle vocazioni, dunque, dice Francesco, è causata dal frutto avvelenato della cultura del provvisorio, del relativismo e del culto del denaro che allontanano i giovani dalla vocazione, insieme agli scandali e alla testimonianza tiepida. La proposta a pratica del Papa è quella di una più concreta condivisione fideidonum tra le diocesi italiane. In Piemonte, ad esempio, c'è grande aridità, in Puglia, invece, c'è sovrabbondanza di vocazioni. Voi vedete, se potete, fare un fideidonum su una diocese in altra, no? Io penso a qualche diocese di Piemonte, è un'aridità grande, no? Lì, penso alla Puglia e alla sovrabbondanza. Ma pensate, una creatività bella, un sistema fideidonum dentro d'Italia. E qualcuno sorride e dice, ma vediamo se siete capaci di fare questo. La seconda preoccupazione riguarda la povertà evangelica e la trasparenza. Chi crede, spiega il Papa, non può parlare di povertà e vivere come un faraone. Ed è scandaloso, aggiunge, gestire i beni della Chiesa come se fossero beni personali. Io penso a uno di voi, per esempio, conosco bene, che mai, mai, mai invita a cena con i soldi o a pranzo della diocesi. Paga dalla sua tasca e se no non invita. Piccoli gesti, ma questo come proposito fatto negli esercizi. Il terzo timore è l'accorpamento delle diocesi. Non è facile, dice il Santo Padre, ma alcune si possono unire per una migliore organizzazione funzionale. Un'esigenza, peraltro, già emersa nel 1964 con Papa Paolo VI. Lo Spirito Santo ci porta verso Dio e verso il mondo. Sono le parole di Papa Francesco durante la Santa Messa di Pentecoste. Lo Spirito, ha detto il Pontefice, è un ricostituente di vita e porta un sapore di infanzia nella Chiesa. Durante la recita della Regina Cieli, il Santo Padre ha rivolto un nuovo appello per la pace in Terra Santa e anche per la crisi in Venezuela. Vediamo. Lo Spirito Santo cambia i cuori e cambia le vicende. Ci spinge verso Dio e verso il mondo. Lo ha detto il Papa nella Messa di Pentecoste, ricordando che, come un bambino, lo Spirito scombina gli orari e fa perdere il sonno, ma porta una gioia che rinnova la vita, raggiungendo anche le situazioni più impensate. Lo Spirito poi ci trasforma e ci rende veramente liberi, soprattutto quando siamo a terra per le fatiche della vita. Allora ci servirebbe un ricostituente forte, è Lui la forza di Dio, è Lui che, come professiamo nel credo, dà la vita. Quanto ci farebbe bene assumere ogni giorno questo ricostituente di vita. Dire al risveglio, vieni, Santo Spirito, viene nel mio cuore, viene nella mia giornata. Nell'Omelia, Francesco ha ricordato anche gli scontri avvenuti in questi giorni a Gaza, pregando affinché lo Spirito Santo porti la pace in Terra Santa. Nell'odierna solennità di Pentecoste continuiamo a invocare lo Spirito Santo perché susciti volontà e gesti di dialogo e di riconciliazione in Terra Santa in tutto il Medio Oriente. È l'auspicio che Papa Francesco esprime dopo la recita della Regina Celi, ricordando la veglia di preghiera per la pace svoltasi ieri a Gerusalemme. Tra i pensieri del Pontefice e anche la drammatica situazione in cui versa il Venezuela, chiedo che lo Spirito Santo auspica, dia a tutto il popolo venezuelano la saggezza per incontrare la strada della pace e dell'unità. La preghiera mariana infine offre a Papa Bergoglio l'occasione di soffermarsi ancora sulla festa di Pentecoste, ricordando che la santità non è privilegio di pochi, ma vocazione di tutti. È lo Spirito che fa sperimentare una gioia piena. Lo Spirito Santo venendo in noi sconfigge la ridità, apre il cuore alla speranza e stimola e favorisce la maturazione interiore nel rapporto con Dio e con il prossimo. E al termine della preghiera mariana il Pontefice ha annunciato il prossimo concistoro convocato per il 29 giugno, nel corso del quale nominerà 14 nuovi cardinali. La loro provenienza, ha spiegato Francesco, esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscendibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Mercoledì 23 maggio, Telepace compierà 28 anni, alle 20.45 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro in Chiavari sarà celebrata una santa messa di ringraziamento per l'attività dell'emittente diocesana. Sono invitati a partecipare tutti gli amici, sostenitori, volontari e telespettatori che seguono la televisione. TeleRadiopace non trasmette pubblicità ma vive della providenza e dell'aiuto di tante persone che con piccole offerte, attività di volontariato e aiuti di vario tipo contribuiscono a mantenerla in vita. Prenderanno il via nel prossimo mese di giugno i lavori di realizzazione della passarella pedonale di collegamento tra via Milano e via Torino sul torrente Boate di Rapallo. L'opera che sorgerà all'altezza del parcheggio del campo sportivo Macera è finanziata da Talea per l'importo complessivo di 300.000 euro in virtù del contratto di sponsorizzazione tra la stessa e il comune che verrà singlato proprio nei prossimi giorni. Il progetto definitivo è dell'ingegnere Roberto Vallarino già progettista del nuovo ponte di Riva Trigoso del quale la passarella pedonale riprenderà alcune caratteristiche. Il camminamento sarà in legno, largo tre metri e mezzo. Il ponte, come da normative vigenti, sarà campata unica. A partire dal mese di giugno verranno realizzate le opere di predisposizione per la posa della passarella. Il varo avverrà in autunno tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. L'inaugurazione è prevista infatti alla fine del mese di ottobre. I lavori saranno realizzati dall'impresa Cosmo di Genova con l'approvazione della determinata relativa alla presa d'atto del progetto definitivo e all'approvazione del contratto che verrà siglato prossimamente, ha spiegato il vice sindaco Pier Giorgio Brigati. Arriviamo alla conclusione di questo iter burocratico. Un iter lungo, non semplice, ma siamo contenti di poter lasciare il segno con un'opera attesa da anni. È andata l'associazione temporanea di imprese, formata da Designa Italia SRL, società di Cornate D'Adda e Ditec SRL, società di Roma. La gara indetta dal comune di Chiavere per la fornitura, installazione e manutenzione di un sistema integrato hardware e software per la gestione dei parcheggi a pagamento. Il ribasso sulla base d'aste è stato del 22,25%. La spesa del comune sarà quindi di circa 331 mila euro più IVA. Maggiore sensibilità sui temi della sicurezza sui cantieri e più controlli da parte degli enti preposti. ASL in primis è quello che chiede la CISL del Tiguglio. L'ultimo episodio dell'infortunio capitato sabato a un operaio che stava intervenendo su un tetto a lei vi ha riportato in primo e piano la tematica della prevenzione che deve partire dalla consapevolezza dei rischi da parte degli stessi lavoratori. Noi riteniamo che ci deve essere assolutamente un aumento dei controlli da parte dell'ASL 4 anche con l'assunzione di nuovi dipendenti perché noi siamo un territorio molto vasto e il personale addetto ai controlli è poco e fa quello che può. Seconda cosa che chiediamo è che occorre una formazione più mirata anche tra gli artigiani e le partite IVA perché sono numerosissimi sul nostro territorio gli artigiani e le partite IVA che operano in edilizia e non solo la formazione sui macchinari o sugli strumenti di protezione ma anche proprio sul comportamento da parte dei lavoratori perché spesso e volentieri purtroppo non c'è la coscienza da parte dei lavoratori del rischio che si ha in un cantiere quando si opera in una situazione di difficoltà. Voi avete anche riscontrato casi concreti in cui le più banali norme di sicurezza non erano messe in campo anche in cantieri che erano gestiti dalla pubblica amministrazione. Quello che ultimamente abbiamo anche riscontrato purtroppo e anche le amministrazioni comunali devono assolutamente porre attenzione per le ditte appaltanti e subappaltanti rispetto al discorso della sicurezza perché due esempi a Chiavari in Via del Pino i lavoratori nei cunicoli di Via del Pino operavano senza casco e ultimamente la scorsa settimana in Val Cichero abbiamo visto che i lavoratori che operavano sulla frana della Val Cichero operavano senza casco e senza imbragatura. Interpellanza del gruppo consigliare insieme per Neirone il ponte sui disservizi che coinvolgono il trasporto pubblico locale. A presentarla questa mattina in Comune la consigliera Lucilla Bertonati nel documento si fa riferimento ai disagi patiti dai pendolari della linea 15 di ATP Chiavari-Genova che transita lungo la Val Fontanabuona. Bertonati chiede al sindaco Stefano Sudermania di attivarsi con ATP e città metropolitana affinché prendano i provvedimenti necessari per risolvere questa situazione. Un 31enne di Legnano e un palermitano di 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver utilizzato soldi falsi. Per lo stesso reato è stato rinunciato anche un 37enne. I tre residenti a Legnano con precedenti sono stati fermati per un controllo in centro a Rapallo e trovati in possesso di 11 banconote da 50 euro che dopo gli immediati accertamenti sono risultate false. Inoltre poco prima i due avevano acquistato due pacchetti di sigarette in una tabaccheria pagando con una banconota da 50 euro falsa. Perquisiti sono stati trovati in possesso di 300 euro sequestrati poiché ritenuti provento dell'attività illecita. Anche le banconote false sono state sequestrate. L'operazione ha visto l'intervento dei militari di Santa Margherita Ligure insieme ai colleghi di Legnano. Questa mattina i tre sono stati processati con rito direttissimo. Realizzato negli anni 20 con la sua capacità di 4,8 milioni di metri cubi è uno degli invasi più grandi della regione Liguria. Stiamo parlando della diga di Giacopiane che sorge nel comune di Borzonasca a un'altezza di più di mille metri sul livello del mare. La sua acqua viene utilizzata per la produzione di energia elettrica che rappresenta una riserva idrica per quanto riguarda il bacino dell'Entella. Importante è anche la valenza naturalistica della zona per accedere alla quale con le auto è necessario acquistare un biglietto. Del lago di Giacopiane del sistema di controlli e di centrali e canalizzazioni è dedicata la puntata di questa sera di Direttamente Su. Sentiamo la popolazione come considera questa realtà dalle interviste che abbiamo realizzato. Vediamo. Che valenza ha per il comune la presenza di questa struttura all'interno proprio del territorio? Dunque la diga è un importante invaso per la produzione energetica, c'è un'energia elettrica, però ha anche una valenza turistica importante che consente quindi di far conoscere il territorio anche a molti turisti, specialmente d'estate. Quindi è un qualcosa in più di cui beneficia un po' tutto il territorio. Ricordiamo che l'accesso nelle zone adiacenti al lago è tutelato, è vincolato, c'è bisogno di un tesserino, si prende qua in comune, come funziona? Ma si può prendere qui in comune o comunque presso gli esercenti qui nel centro di Borzonasca che sono convenzionati col comune, quindi possono, diciamo, il turista o chi ha necessità può rivolgersi ai bar e ai locali del centro. Qui siamo in una delle bar di Borzonasca dove si possono acquistare questi famosi tesserini. Come funziona, signora? Ogni macchina deve fare un permesso con la targa in nominativo e poi lo lascia sul cruscotto e 5 euro al giorno per i nuovi residenti, un euro invece ai residenti e poi se sono giornate a seguire, sono 5 euro al primo giorno e i giorni successivi un euro. C'è tanta gente che li acquista? Parecchi, sì. Soprattutto una bella stagione, adesso iniziamo? Sì, sì, sì. Voi ne vendete parecchi? No, ne vendiamo parecchi, sì. E le persone del posto come vivono questa cosa? Boh, abbastanza bene, ma ci siamo abituati. Se le dico Giacopiane, cosa mi dice? Vedo un bel lago, vedo un bello spazio, tanta gente naturalmente. Un luogo dove andare per scampagnate? Sì, sì, sì. Ora c'è la faccenda che fanno pagare anche il biglietto per andare su, però la gente ci va lo stesso, penso. Nel vive qui, lavora qui, che rapporto c'è? Da lavoro? Certamente, certamente. Ma comunque poi è comunque un posto dove andare a fare un giro, magari anche con la tenda, quelle cose lì. Per funghi? Per funghi, sì. No, le attrattive ci sono. È un bel posto, ci si va volentieri. La polizia di Chiavari ha arrestato un giovane spacciatore, sorpresa mentre vendeva hashish a un gruppo di ragazzi, tra cui un minorenne. Si tratta di un 22enne chiavarese, al quale sono stati sequestrati 48 grammi circa di cannabionidi, e un bilancino di precisione nascosto in casa. Il fatto è avvenuto venerdì sera, poco prima. Gli agenti del reparto prevenzione crimine della Liguria avevano arrestato per lo stesso reato un chiavarese di 29 anni pregiudicato, fermato alla guida della sua auto, con circa 11 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. Entrambi sono stati giudicati per direttissima. Nel fine settimana a Portofino i carabinieri hanno denunciato tre persone, di cui un minorenne per guida in stato di ebrezza. Le patenti sono state ritirate. Inoltre ad un 23enne straniero è stata elevata una sanzione di 532 euro, perché il risultato con un tasso alcolemico superiore ai 0,60 grammi per litro. Sono stati due gli interventi di soccorso a persone messi in atto nella giornata di ieri dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. Il primo, pochi minuti prima di mezzogiorno, nei confronti di una donna che mentre stava effettuando un'immersione nella zona di Cala degli Inglesi, nell'area marina protetta di Portofino, ha accusato un malore. È stato chiesto l'intervento dei soccorsi giunti sul posto con la moto vedetta della Capitaneria di Porto. Alla donna è stato somministrato ossigeno puro, grazie al quale si è prontamente ripresa e ha rifiutato ulteriore assistenza sanitaria, rientrando col suo gruppo di subacquei al porto di Genova. Alle 13.30 circa è giunta invece un'altra segnalazione riguardante la presenza di due bagnanti che dopo essersi incagliati su uno scoglio con la propria canoa hanno richiesto l'assistenza ad un passante, il quale ha subito richiesto i soccorsi, chiamando il 112. Sotto il coordinamento della sala operativa della Direzione Marittima della Liguria è stato impiegato in zona al battello veloce A96. L'equipaggio ha subito individuato i due ragazzi milanesi aggrappati su uno scoglio. Soccorsi in buono stato di salute, solamente impauriti, sono stati accompagnati in spiaggia dai militari della Guardia Costiera. Uno scambio culturale tra studenti italiani e moldavi, progetto in fase di studio che ha portato in Val Fontanabona l'ambasciatrice della Repubblica Moldava. Coi volti gli studenti del Marco Polo di Calvari e alcuni imprenditori della zona. Noi siamo andati a vedere. È giunta a sesto anno la collaborazione tra Liguria e Repubblica di Moldova, un'amicizia consolidatasi negli anni che è culminata nel 2017 con l'apertura a Chiavari della prima camera di commercio Italo-Moldava del Nord Italia. In questi giorni, l'ambasciatrice Stella Singaci, tornata nel Tigulio, ha incontrato i studenti dell'Istituto Marco Polo di Calvari per un'iniziativa di scambio culturale. La Repubblica di Moldova è un paese associato all'Unione Europea e nell'ambito di questa associazione ci sono varie opportunità di progetti, iniziative come Erasmus, Tempus e altri progetti europei nell'ambito dei quali possiamo avviare e realizzare scambi fra gli studenti italiani e gli studenti moldavi. All'incontro erano presenti Alberto Sanguinetti, referente della Repubblica di Moldova in Liguria, e Pino Rainone, chef internazionale, che ha portato il suo contributo con piatti di qualità. Come ambasciata si cerca sempre di promuovere il territorio tramite le eccellenze e di cercare collaborazioni con le eccellenze del territorio. Dato che la Repubblica di Moldova ha delle eccellenze in agro-inventare mi sembrava opportuno partire con il Marco Polo, che è un istituto alberghiero che ha sia la parte turistica per quanto riguarda la sala e il ricevimento che la parte enogastronomica di cucina. Mi hanno chiesto di portare un piatto della Moldova, mi hanno chiesto un piatto marchigiano e uno ligure, ma che ho fatto un piccolo matrimonio. Ho sposato le marche con la Liguria. Abbiamo realizzato un ragù dove è stato fatto con un passito di una cantina locale veramente spettacolare e ho portato altri prodotti marchigiani. La quindicesima edizione di Chiaver in Fiore ha portato in città nel fine settimana oltre 20.000 presenze. Il centro storico si è presentato come un grande giardino a cielo aperto con floricoltori, divaisti, fioristi, ma anche artigiani e artisti. Questa edizione ha superato ogni aspettativa. È il commento dell'assessore Gianluca Ratto. Il Comune ringrazia i commercianti, il CIV ci vediamo in centro e l'ASCOM Chiavarese. La visse di San Colombano-Certiennoli sezione Orietta-Uneto ha festeggiato i 30 anni di fondazione. Grande festa per il gruppo guidato da Franco Bevilacqua col pranzo alla cerimonia di premiazione dei donatori che si è tenuta pochi giorni fa. Alberto Sanguinetti ha conquistato la benemeranza speciale in oro con Smeraldo per aver raggiunto le 100 donazioni. Durante la festa è stato letto un messaggio di prete Rinaldo Rocca, 30 anni fa socio fondatore dell'Avis di San Colombano-Certiennoli. è incredibilmente bello essere fratelli di sangue con tanta gente che nemmeno conosciamo. Ha scritto prete Rinaldo sono la fraternità può far migliorare il mondo. E ora come di consueto scheda degli appuntamenti per la giornata di domani martedì 22 maggio. Appuntamenti in agenda per martedì 22 maggio. Come ogni martedì è aperto alle visite il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti che espone attrezzature d'epoca nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari. L'orario va dalle 9 alle 12. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Queirolo Gilberto Cormegna affronterà il tema La moneta e le sue funzioni. Nella sala livellare di Via del Pino a Chiavari incontro con Duilio Citi che ricorderà Giovanni Mino Orbolo storico componente del direttivo dell'Associazione Ocastello scomparso alcuni giorni fa l'inizio alle 16.30. Laboratorio di tecniche espressive promosso dal Centro di Cultura alla Torre di Leivi dalla grafica al modellato sino alla lettura di un'opera d'arte. Il corso è svolto da Alessandro Borgatti nella sede dell'Associazione in Via Selaschi a partire dalle ore 21. Ricordiamo infine che è ancora allestita la mostra fotografica Antonio Guccione Portofino a cura di Flavia Motolese. L'esposizione è aperta a Castello Brown. Sarà possibile visitarla fino al 18 giugno dalle 10 alle 18. Parliamo di nuoto. La squadra femminile Under 20 B della chiave di nuoto si è laurata campione di categoria con una giornata di anticipo. Il traguardo è stato raggiunto grazie alle vittorie sul Sestri per 5 a 4. Un risultato importante che mancava da tempo tenuto con ragazzi volenterosi e sotto leva. la squadra aveva solo un atleta nato nel 1998 due nel 99 tre nel 2000 ma tutti gli altri erano di classi più recenti addirittura c'era un 2004 soddisfatto il tecnico Robert Dinu che dichiara se è vero che il lavoro paga penso che nel giro di 2-3 anni vedremo molti più ragazzi nativi di Chiavere giocare in prima squadra Ora notizia dell'autostrada prima di chiudere sulla 12 Genova Sessi Levante per lavori di manutenzione del viadotto Antella sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna sia verso Livorno sia in direzione del capoluogo Ligure in diversi giorni e orari il percorso Chiavari-Lavagna verso Sessi sarà chiuso per una notte quella di oggi dalle 22 alle 6 di domani mattina si dovrà uscire a Chiavari percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 a Lavagna per proseguire verso Livorno il tratto Lavagna a Chiavari invece in direzione Genova sarà chiuso dalle 22 di domani sino alle 6 del mattino di giovedì 24 maggio si dovrà uscire a Lavagna percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 a Chiavari per proseguire in direzione di Genova questa era l'ultima notizia del nostro giornale prossimo appuntamento domani 12.45 TG13 vi ricordo questa sera appuntamento con direttamente su intorno alle 21.10 si parlerà dell'invaso di Giacopiane io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete e arrivederci a la nostra rete